Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento Tutankhamun, gioco della Little Rocket Games, che io ringrazio di cuore per avermi fornito questa copia per la recensione ed è sempre un grandissimo piacere e un onore collaborare con voi. Un gioco molto veloce, lo vedete anche di dimensioni ridotte, una scatolina che si trasporta tranquillamente e un gioco assolutamente alla portata di tutti, che ci insegna anche qualcosa dell'antico Egitto. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Tutankhamun, gioco della Little Rocket Games, è un titolo da 2 a 6 giocatori, come riporta la scatola, della durata media di una trentina di minuti, anche se il gioco gira meglio da 3 giocatori in su, però nel regolamento ci viene incontro appunto facendoci fare con delle regole particolari, un setup particolare per una partita a 2. Si gioca tranquillamente anche in 2, non c'è la componente per ora in solitario, però comunque è un gioco che il meglio la dà da 3 in su. È un titolo che ci vede nei panni di sacerdoti, nei panni di, tra molte virgolette, patrizi, dell'epoca comunque dell'antico Egitto, durante la morte del faraone Tutankhamun. E noi saremo chiamati ad andare al funerale di Re Tut a onorare le spoglie in questo viaggio che ci conduce lungo tutto il Nino, dove noi con la nostra imbarcazione dovremo andare nella tomba del faraone a portare il nostro dono funebre. Ed è un gioco interessante anche perché a livello di contesto storico vi ricordate che Re Tut, non si sa, alla fin fine, piccolo spiraglio, parentesina storica, si pensa che sia morto per una complicazione, perché aveva delle complicazioni a livello osseo, ma come anche di un possibile assassino. Infatti, alcune ricerche che sono state fatte, sembra che lui sia morto in battaglia, o comunque sia morto durante un'esercitazione, e sembra che da quello che hanno trovato sulle sue ossa, che erano rincarcate verso l'interno, sembrerebbe una ferita non da arma quanto contundente, quindi una botta o forse la ruota di un carretto che l'ha colpita quando era a terra. Comunque, la storia vuole che Re Tut sia uno dei faraoni bambini, durato meno di tutto in assoluto, e per questo che è rimasto anche famoso il Ciorini è durato pochissimo, e sembra che sia stato assassinato, anche perché il padre era Achenaton. E Achenaton è stato quel faraone che ha completamente sotterrato tutte quante le antiche credenze dell'Egitto, quindi tutti gli dèi, che poi è un pantheon infinito, c'erano un dio per ogni cosa, un dio per il deserto, un dio per il fiume Nilo, un dio per gli uccelli, un dio per le tigri, un dio per i gatti soprattutto, e sembra che il padre Achenaton l'abbia completamente azzerato, e l'unico dio che appunto da quel momento in poi sotto il nuovo faraone Achenaton, gli egiziani, il popolo d'Egitto, andavano a venerare, era il dio Aten, il dio del sole, un po' come Amorra. Però laddove Amorra era il padre degli dèi, Aten era l'unico dio, e infatti il faraone prese il nome di figura nel mezzo fra spoglie mortali e spoglie divine Achenaton. Ed è un gioco veramente interessante, molto leggero, e che tra l'altro ci insegna anche delle belle cose. Vi faccio vedere bene o male come funziona, vi dà un'idea, ma prima di tutto unboxing. Confezione del gioco, in cui si vede il fiume Nilo, bellino anche il disegno e la colorazione, e questi qui siete voi praticamente che fate il viaggio per portare i vostri doni alla tomba del faraone. Librettino del gioco, del regolamento, che è semplicissimo, e come vi ho detto, guardate, carina, c'è la scatola del gioco che poi è la tomba del faraone, questa qui, il pezzo di sotto, e voi dovete mettere tutte quante queste tessere, pescate casualmente, messe casualmente, randomicamente, andare a formare praticamente il corso del Nilo. Le regole del gioco sono semplicissime, di scritte qui e qui, in due pagine, basta. Già di qua c'è praticamente tutta quanta la lista dei poteri delle varie divinità. Tutte quante le tessere che dovete staccare, che vanno a rappresentare le varie reliquie, più le varie divinità del panteone egiziano che vi daranno dei bonus e vi faranno fare azioni particolari. Queste qui vanno tutte quante rifustellate, c'è un po' di roba che poi, messe insieme, fanno il corso del fiume Nilo. Pelline di silica, bustina per conservare tutto quanto. Questa è veramente carina, ovviamente è una cosa fatta in cartoncino, e rappresenta la tomba del faraone di Retut. E poi qua dentro abbiamo i vasi canopi, che servono per segnare i punti, le imbarcazioni, che vi consentiranno di navigare il Nilo, e poi carte riassuntive e repilogative che vi fanno vedere tutti quanti i poteri delle varie divinità, e più anche, insomma, un zunto delle regole. Come vedete il contenuto è poco, ma è anche per un gioco molto veloce. Questa è la scatola, la parte sotto, che come vedete bellina, è proprio l'area di gioco, che poi in questa zona qui, è soltanto per figura, non ci dovete andare a giocare, dovete mettere al centro la tomba del faraone, e qua su, in cima, i vasi canopi, attaccati così, che vedete, da 0 a 30 punti. Ogni volta che voi guadagnate dei punti, non dovete salire, ma dovete andare a scendere, perché questo gioco praticamente fa un giro di punteggio alla rovescia. È bellino, fa tanto, una cosa del genere. Il funzionamento del gioco è molto semplice. Abbiamo delle tessere, che vanno messe tipo a spirale, per far finta che sia comunque il fiume Nilo. La cosa bellina è che, ora tanto vi faccio vedere un po' di immagini, la scatola del gioco, lo stesso fondo della scatola, è la tomba del faraone, e quindi anche molto bellina, fa parte dell'area di gioco. Quindi la scatola è il proprio elemento scenico 3D dello stesso gioco. Dovremo prendere queste tessere, che sono reliquie, o comunque divinità, e noi poi dovremo prenderci i segnapunti, che sono i vasi canopi, e ciascuno di noi dovrà prendere un'imbarcazione del proprio colore. Si fa questo tracciato, che arriva dalla tomba del faraone fino alla fine del fiume Nilo, e dovremmo spostarci lungo questo tracciato, in avanti o in indietro, per portare appunto reliquie, e portare la nostra rimostranza alla tomba del faraone Rethuth. Le regole vogliono che ci si può muovere in avanti di quante caselle vogliamo, quindi si può anche fare un salto di 10 caselle, però ci si può muovere indietro di una casella soltanto, e il gioco vuole che dove ci fermiamo sulla casella, dobbiamo risolvere. Le reliquie sono divise in gruppi di reliquie, tanto c'è scritto sempre, c'è scritto sulla carta, il numero che dovete avere per finire quella serie di reliquie, e soprattutto il punteggio che vi daranno una volta finita, magari due punti, tre punti, quattro punti, una cosa del genere. E il nostro scopo è quello, quando si finisce su una casella, di prendere la casella, toglierla, e quello è una reliquia che abbiamo preso, che una volta finita la serie, dovrà essere portata alla tomba del faraone, o anche semplicemente, se passiamo su una casella, dove invece c'è il simbolo di una divinità dell'Antico Egitto, dovremo fare quello, risolvere la casella, e fare quello che la casella ci dice di fare, ad esempio ci potrebbe dire di spostarci in avanti, o indietro di più caselle, oppure semplicemente ci potrebbe dare un'abilità speciale, come dire, prendi più reliquie, tanto per finire una serie. Comunque ogni dio vi dà la possibilità di fare qualcosa, che normalmente non potreste fare. Ed è una gara al punteggio, si parte da un punteggio massimo, questa è una gara a punti, però che vanno alla rovescia, non si parte ad esempio da 0 punti e bisogna arrivare a 20, ma dovendo alleggerire il nostro cuore dei peccati, arrivando alla tomba del faraone, si parte, che ne so, da 20 punti e bisogna arrivare a 0, quindi alla rovescia. Avete fatto 3 punti? Da 20 scalate a 17, non da 0 andate a 3, quindi è soltanto un conteggio come un altro, solo alla rovescia. Chi fa più punti, direttamente arrivando alla fine nella tomba del faraone, ha vinto la partita, quindi si vince con le serie complete di reliquie, perché se voi fate una serie di, la serie magari è di 4 e voi ne fate 3, ma un altro vi ruba l'ultima, avete guadagnato comunque dei punti, ma non prenderete il punteggio massimo, perché non avete finito la serie. E soprattutto bisogna tenere sempre sotto controllo l'avanzata dei vasi canopi, che sono il nostro viaggio verso la duat e la purificazione della nostra anima. È facilissimo. In conclusione, il gioco è semplicissimo, e l'ho chiesto anche apposta, perché a parte non ho tantissimi giochi nell'Antico Egitto, che è poi un contesto, è un periodo storico del nostro pianeta, che mi piace veramente da morire, a livello di spiritualità, per me l'Egitto è il top del top, e poi da gattaro, non potevo esimermi da adorare un popolo del genere, e poi un gioco veloce, comunque è il classico gioco, che porti a qualsiasi tavolo, che fai divertire tutti, è un gioco veramente semplice, sì, ci vuole magari quei 5 minuti, e un round per spiegarlo, però alla fine si tratta soltanto di avanzare, fare punti, fare le serie, e se becchi la divinità, la divinità ti dice di fare cose particolari, che poi sono segnate nel regolamento di gioco, quindi è un gioco veramente facilissimo, è una corsa al punteggio, per cercare di fare più serie possibili, quindi assolutamente è un gioco, alla portata di tutti, anche la componentistica è veramente molto carina, e mi piace il fatto che la scatola, è un elemento 3D del gioco. Ringrazio la Little Rocket Games, per avermi offerto questa copia per la recensione, e se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla gioco libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato, se lo trovate in lista, nel negozio, ma è finito, oppure proprio non c'è in lista, scrivete a Corrado, il proprietario del negozio, scrivete al supporto, e fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, lui farà il possibile per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, e vi ricordo di usare sempre, come vedete a nota, il codice sconto Coridan7, per avere uno sconto e un discount, pari al 7% su tutti gli acquisti, se spendete più di 79 euro, spese postali gratuite, in tutta Europa, quindi comunque, è un buon servizio, e andate a vedere se lo trovate, nel caso non ci fosse, o fosse finito, mandate una mail al supporto, ragazzi, è un gioco veramente, alla portata di tutti, ed è veramente, molto 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 divertente, vi sfido a provarlo, perché poi magari, è una partita, tira l'altra, e poi magari ci insegna anche qualcosa, ciao ragazzi, alla prossima!